Ciao Mark, grazie per questa intervista, noi ci siamo già visti sui campi da padel e purtroppo per te sì, ci siamo già visti, però oggi andiamo ovviamente sul calcio e quindi vorrei ripercorrere con te un po' tutta quella che è stata la tua carriera partendo dagli inizi e gli inizi hanno un nome che sono Salernitana Benissimo, è stato il primo amore perché praticamente mi hanno scartato tutte le squadre del Meridione l'ultima speranza era il provino alla Salernitana, ma a parte non ero giovanissimo, sono già 16 anni mi prendono col punto interrogativo e inizio a fare, sì inizio a giocare con gli allievi alla Salernitana faccio un anno e mezzo di settore giovanile, poi fortunatamente c'era un allenatore che giocava con 11 difensori e qualcuno l'avevo fatto infortunare io addirittura perché per farmi avanti all'epoca si poteva ancora picchiare ho avuto la fortuna di sostenere in Serie B a 17 anni e poi la Salernitana dalla Serie B che era appena stata promossa in Serie B in retrocedette e iniziai a giocare con molto di più praticamente feci un anno, due anni da titolare in Serie C sono molto legato alla Salernitana perché poi andai via e ritornai Bologna-Monza? sì, Bologna-Monza, ma erano due parentesi molto sfortunate anche perché ero molto giovane avevo di mezzo il servizio militare, non ero migliorato per quello che erano le mie aspettative molto probabilmente anche di questa società poi avendo, ti ripeto, la grossa fortuna di essere sempre sotto contratto con la Salernitana avevo un ultimo anno di contratto con la Salernitana che era stata promossa la Salernitana di Delio Rossi, una fantastica Salernitana che giocava a calcio tornai a Salerno, che ero in scadenza di contratto e ebbi la fortuna di trovare Delio Rossi che veramente è stato il primo a insegnarmi a giocare a calcio perché c'era già stato il passaggio più o meno in quegli anni dal giocare a uomo, dal giocare a zona e mi trovai in un'interagliatura, veramente una squadra che giocava a memoria che avevo stravinto il campione della Serie C e fortunatamente riusci a integrarmi iniziai a giocare, feci due anni stupendi, un anno con Delio Rossi e un anno con Franco Colomba che mi vede l'opportunità poi di raggiungere il mio primo amore che è la Juventus che è la squadra per la quale fin da quando conosco il calcio era la mia squadra del cuore Esatto, volevo arrivare proprio alla Juve Mi ha anticipato Mi ha anticipato Oh sì, restringiamo tutto E volevo chiederti, per un giocatore che viene comunque dalla Serie B qual è l'impatto ad andare nella squadra in quel momento campione d'Europa quindi al livello più alto mondiale? Guarda, è stato facilissimo è stato facilissimo perché abbiamo incontrato appunto i campioni d'Europa i campioni d'Europa che non erano soltanto campioni in campo ma i campioni quando si dice una persona più è forte, più un campione più capisci lo spessore di questa persona ma è stato talmente naturale arrivare in quel contesto perché prima di tutto la città perché Torino è molto, non è freddo però ti lascia vivere, ti lascia veramente che tu giochi nella Juve che tu possa essere chissà chi o una persona super famosa Torino è una città che ti lascia vivere molto, molto chiusa e questo era stato assorbito anche dai calciatori della Juve in precedenza quindi per un giocatore era quasi andare venendo a fare un lavoro come un altro e trovarsi con altri miei compagni appena arrivati Nicola, Nicola Moruso, Cristian Vieri Silenzidan, Paolo Montero tutti, bene o male la stessa età è stato molto di più perché comunque abbiamo fatto subito gruppo e siamo integrati subito perché questi super campioni ci trattavano come se noi fossimo i campioni i nuovi campioni che li aiutavano a vincere ci hanno trattato veramente come se senza di noi non potessero giocare quello è stato una cosa incredibile appena ci invitavano sempre a casa ci facevano stare sempre con le loro famiglie e poi abbiamo capito il perché perché in una squadra di calcio non vinci da solo hai bisogno di tutti anche se un giocatore gioca un minuto cinque minuti sono quei cinque minuti che ti possono anche dare una vittoria alla Juve e la Juve veramente era quando si dice una famiglia era una famiglia allargata perché non avevi problemi dovevi soltanto pensare ad allenarti purtroppo ti allenavi pure troppo e quindi ti riposavi in campo durante le partite il compagno che ti ha impressionato di più appena arrivato? e qui c'è una vasta scelta poi guarda è impossibile dirti il nome più facile mi viene a dire è Zidane è Zidane perché quando abbiamo visto la prima volta lui veniva dall'Euro 96 era stato acquistato prima dell'europeo e non aveva fatto bene però alla prima partitella in allenamento ci chiedevamo ma quante chance potesse avere questo ragazzo di giocare nella Juve dove aveva fatto un gol europeo così molto giovane molto timido la prima partitella ci siamo siamo guardati tutti ma non soltanto noi ragazzi ma stiamo parlando di cifre di D.E. di chi c'era lì erano tutti dei campioni ti giuro guardarci nei giochi e ho detto ma questo è un mostro ed effettivamente era mostruoso non riusciva a prendergli la palla va vellegeva il gioco già tre secondi prima degli altri era impressionante devo dire lui perché tra tanti campioni che ha avuto la fortuna di giocare lui è stato quello che più è stato imbarazzante talmente era straordinario come giocatore e poi come persona naturalmente poi in quel primo anno arriva il primo scudetto è stato il più emozionante? è stato il più importante il più emozionante prima perché era il primo scudetto che vinceva con la Juve poi avevo fatto io il gol scudetto a Bergamo la trasferta di Bergamo quindi per me mi era doppio e la gioia al primo anno al primo anno di vincere subito qualcosa di importante rimarrà sempre nel mio cuore anche se ho la fortuna poi di vincere altri trofei però quello è sicuramente una delle emozioni più grandi che ho provato hai vinto tantissimo e ho perso tantissimo come si dice spesso si vince tanto ma si perde anche tanto tra cui tre finali di Champions League qual è stata la più dolorosa? è la prima la prima è stata dolorosissima perché perché nel raggiungimento al primo anno di Juve praticamente avevamo vinto tutti i trofei a disposizione tra cui appunto l'Intercontinentale Supercoppa Europea campionato e la cilicina sulla torta era la Champions League contro una squadra comunque piena di ex Juventini che avevamo fatto comunque un po' di storia della Juventus ma noi eravamo strafavoriti avevamo una squadra che aveva praticamente vinto tutte le partite aveva stradominato in Italia e in Europa e purtroppo in 90 minuti non sai mai quello che succede una partita secca e noi una partita che è iniziata male è definita peggio e dirti darti delle spiegazioni col passare di tutti questi anni non è ancora facile infatti però è stata una rendola un botta tremenda dopo un po' di amaro ti do un po' di dolce grazie 5 maggio 2002 è dolce dolcissimo perché uno scudetto effettivamente insperato perché l'Inter ha fatto un campionato straordinario ha dominato il campionato italiano noi però abbiamo fatto abbiamo avuto degli alti e bassi però abbiamo fatto il nostro percorso quindi l'importante era stare attaccati perché quando appunto una partita secca può succedere di tutto ma quando un campionato ha i piccoli passi sai le formichine piano piano che si avvicinano che aspettano magari un errore della squadra che giustamente meritatamente stava vincendo il campionato aveva avuto sicuramente un percorso migliore del nostro però abbiamo trovato la nostra quadratura la forma fisica proprio nel finale della stagione che ci abbiamo provato e per me è andata bene per l'Inter un po' meno però è stato è stato è stato bello festeggiare è stato bello festeggiare come bisogna festeggiare tutte le tutte le vittorie però quando una sai gli altri anni avevamo sempre vinto il campionato già sapevamo da da tempo che avevamo sempre dei grandi vantaggi avevamo sempre dominato invece in questa occasione il fatto di di arrivare di arrivare lì quasi a pari punti però con non dico la rassegnazione di aver perso invece di trovarti appunto a vincere è stato molto molto bello sì anche perché poi quando non hai il destino nelle tue mani è sempre è molto difficile molto difficile però spesso succedono succedono non dico i miracoli però i grandi regali tra l'altro per te fine anni 90 inizio anni 2000 sono annate importanti arriva anche la nazionale poi due spedizioni abbastanza importanti Euro 2000 e poi i mondiali del 2002 partiamo da Euro 2000 Italia-Olanda una partita che è rimasta nella nostra storia cosa ci puoi dire di quella partita incredibile? è già stato detto detto di tutto perché è stata raccontata analizzata è una delle forse più grandi vittorie del gruppo del gruppo del calcio italiano perché affrontavamo una squadra stratosferica che era l'Olanda che giocava in casa una squadra di campioni inutile di nominarli tutti da Bergkamp da Kluivert da Overmars guarda dei fratelli per ogni Edgar Davids Sedorf Van der Sar ma è inutile giocare una partita contro questa squadra in 10 per 100 minuti che mi ricordo che Gianluca Zambrot era stato espulso dopo 15-20 minuti se non sbaglio è stata veramente dura è un grande tolto anche la fortuna perché la fortuna aiuta però avevamo una squadra così unita così arcigna che abbiamo portato la partita ai tempi superimentari ti ripeto contro una squadra mostruosa e ricordo che ai tempi superimentari abbiamo avuto più occasioni noi di loro perché entrò Totti del vecchio si trova una palla incredibile su Asti di Totti e Van Der Star fa un miracolo vabbè Totti ne aveva già fatti i miracoli e quindi l'abbiamo portata con tanta fatica i cacci di rigori il destino vuole proprio loro con i cacci di rigori non potessero segnare perché tra Totti che in quel giorno era in formato superman e che il clamorosiero e loro abbiamo vinto vinto quella partita in maniera incredibile incredibile non dal fatto che siamo passati noi ma incredibile dalla tenacia dalla forza la forza del gruppo e la forza atletica che avevamo e poi avevamo dei difensori a partire da Del Piero da Totti perché alla fine difendevamo tutti e cercavamo di contrattaccare con più persone a disposizione però è stato avendo un ricordo bellissimo purtroppo rovinato dalla finale che è stata la partita forse più migliore che abbiamo giocato a livello tecnico che eravamo andati anche in vantaggio immediatamente l'avamo chiusa non abbiamo fatto l'ora di non chiuderla e l'abbiamo preso un gol l'ultimo secondo ma era già scaduto il tempo il tempo era già scaduto da un po' se teniamo la palla più più su o se si ferma il gioco un attimo siamo campioni d'Europa invece il destino ci ha tolto quello che ci aveva magari dato con la semifinale adesso è inutile commentarla perché è una ferita che rimane sempre aperta si capisce da come ne parli sono attimi sono attimi il calcio è attimi devi sfruttare gli attimi positivi e a volte non va bene però quel tipo di giocatori quel tipo di squadra una volta non ti guardavi mai indietro c'era sempre una sfida una sfida il giorno dopo da vincere questa è stata grande forza di quei giocatori di quell'epoca la sfida dopo si chiama mondiale 2002 una spedizione un po' sfortunata io ti dico solo un nome Byron Moreno poi vedi tu come argomentarla l'hanno arrestato Byron Moreno si guarda cosa ti posso posso dire io ho sempre rifiutato di rivederla quella partita perché poi poi si l'ho rivista in altri momenti dopo tanti anni perché era incredibile quello che abbiamo vissuto in quella serata funesta non ha niente a che fare con il calcio ed è incommentabile non ci si credeva quello che veniva fischiato in campo contro espulsioni rigori rigori se ricordo bene c'era un rigore contro subito si poi parato da Buffon poi ci hanno espulso top passiamo in vantaggio poi ma succede è una partita che non era più calcio quindi il fatto di essere usciti così è stato tremendo poi penso con una squadra ancora migliore di Euro 2000 perché nel 2002 era uno squadrone che non aveva punti deboli veramente non aveva punti deboli è stata veramente una una cosa una cosa orribile pensa che poi se ricordo bene noi eravamo in viaggio vedemmo la partita la Corea la Corea fece la stessa cosa con la Spagna ai quarti di finale e buttò fuori la Spagna e successe più o meno quello che si annullarono due gol alla Spagna incredibili e poi persero in semifinale con la Germania era non si poteva giocare effettivamente era impossibile quindi è stata un'esperienza dell'utente anche perché ci siamo fatti già un mese più di un mese di ritiro tra tra Giappone e Corea quindi stare così lontani per così tanto tempo già non era facile quindi volevamo volevamo arrivare fino in fondo hai parlato tanto di quella generazione io mi concentro sul tuo ruolo ovviamente sui difensori generazione del 70 anche se siete quartisti però generazione del 70 clamorosa tu Ennesta Cannavaro cosa cambia dal difensore di quegli anni al difensore moderno secondo te proprio come preparazione e interpretazione del ruolo guarda io penso che è già quella figliolata diciamo quella classe classe dopo il 70 dopo il 70 già erano difensori moderni perché già si giocava già parlando quindi degli anni fino ai anni 90 e poi 2000 già non esisteva più la marcatura a uomo esisteva la zona esisteva il difensore iniziasse il gioco portasse palla quindi già era già era il difensore moderno se parliamo di questa classe di difensori che si è voluto si è voluto molto fisicamente e tatticamente quindi non vedo tante differenze non vedo differenze anche perché noi all'epoca giocavamo anche noi tantissime partite tra nazionale e competizione europea veramente arrivava a fine anno spremuto e non parlo di evoluzione penso che sia migliorata la tattica sia migliorata tatticamente gli ultimi difensori però la scuola italiana ha sempre avuto dei grandissimi difensori e il fatto che stiano tornando ultimamente i difensori italiani perché abbiamo avuto purtroppo una fase in cui i difensori generalmente i calciatori di ogni squadra la maggior parte fossero stranieri quindi non è che si è andato a perdere però vedevi molti meno difensori italiani che come stiamo vedendo magari adesso gli ultimi ragazzi che stanno uscendo e c'è uno di questi difensori italiani in cui ti rispecchi un pochino? me l'ha chiesto me l'ha chiesto tante volte hanno fatto dei paragoni però io non sarebbe ti dico di no perché sarebbe non sarebbe giusto perché ogni ogni calciatore difensore o attaccante c'è la propria che sia le proprie dinamicità la propria crescita personale quindi paragonarsi non è non è giusto e sarebbe bellissimo come quando noi parliamo di noi magari dico io mi piacerebbe essere stato come Baresi o come è più facile per i giocatori moderni magari ispirarsi ispirarsi ai Maldini ai Nesta ai Cannavaro che i giocatori che già sono passati rivedersi in qualcuno preferisco io ispirarmi a quelli che ho avuto Scirea Baresi Maldiva ci ho giocato insieme ho avuto forse di giocare anche contro Baresi quindi è molto più bello e sensato che siano loro a scegliersi un proprio idolo il ricordo più bello della tua carriera calcistica ne ho avuti tanti ne ho avuti tanti dal primo giorno che sono diventato professionista per me è stato stupendo è stato un sogno un cammino tutte le squadre che ho giocato naturalmente con il coronamento di raggiungere il mio sogno quello di giocare nella Juventus è stato tutti i giorni ogni allenamento nel partito è stato il giorno più bello perché questo questo lavoro questo divertimento era quello che volevo da ragazzino come vogliono migliaia e migliaia di ragazzi quindi non c'è un momento sono stati tutti belli anche nelle sconfitte perché ero lì a fare quello che volevo fare da sempre con i migliori al mondo e anche se non i migliori era quello che volevo fare io bello per chiudere ti chiedo un aggettivo per questi allenatori che ho selezionato anche di allenatori ne hai avuti diciamo parecchi bravi il primo che ti chiedo è Dino Zoff ma Zoff non ho dei guarda è difficile perché Zoff soprattutto Zoff Lippi e Ancelotti racchiudono perché so che forse voleva arrivare anche a loro Lippi e Ancelotti sì quello che è il sogno di un allenatore di ogni calciatore perché hai la capacità da parte di un allenatore di leggerti dentro sapere quando è giusto farti giocare che sei nel momento giusto tu per scendere in campo conservarti nel senso gestirti quando nel momento di farti giocare e buttarti giù quando meriti di essere bastonato tra virgolette e il momento di essere esaltato quindi la completezza personalità a livello tattico sicuramente Lippi perché Lippi era quello più preparato ad essere a livello tattico perché come leggeva le partite Lippi non leggeva nessuno cambiava le partite in ogni guarda in due minuti cambiava la partita ci fu una partita che perdevamo 2-0 in casa col Verona cosa fai metti un attaccante mi ricordo mi dice Mark scaldo io il banchino mi fa entrare perché c'entravo io mette terzino quella partita feci due assist e Del Piero vinceva una partita ma in dieci minuti ma non perché se entrassi io facevo il terzino ho fatto ho fatto la fortuna di fare due assist ma poi Del Piero sarebbe dato un gol perché da sola aveva triplato tre persone forse avevo passato la palla però tu dici non è perché se sono entrato io potevo entrare qualcuno ma quel momento non so chi l'avrebbe fatto per quello me la ricordo perché è successo a me l'IP prima perché Angelotti l'ho avuto agli inizi lui veniva da Parma quindi a livello tattico non era pronto non era preparato come l'IP però come persona come gestione dello spogliatoio infatti non c'è un calciatore che abbia giocato con Angelotti che non si butterebbe nel fuoco per lui e ha conservato questa capacità di essere così umano di essere così dentro al gruppo lui veniva a giocare alla Playstation con noi faceva delle cose faceva con i calciatori e integrava stava la maggior parte del tempo con chi non giocava e li spronava si fermava con lui a fare qualche allenamento in più per migliorare quindi Angelotti non possono metterli tutti e Zoff agli europei mi ricordo che eravano in mezzo alle critiche forse all'inizio erano in mezzo alle critiche per le qualificazioni per le qualificazioni e poi la prima partita avevamo fatto fatica con la Turchia che poi fece i gol e rovesciate quindi avevamo un po' di problemi e c'erano alcuni giocatori che non se la sentivano di magari di andare in compresa stampa e lui ci calmava ragazzi ci penso ci parlo io ci penso io voi pensate solo allenare pensate solo a fare il vostro lavoro quindi ci proteggeva con l'esterno quindi non posso li metto insieme perché sono quelli che mi hanno regalato tutta la mia carriera loro tre insieme l'ultimo non te lo chiedo perché era Hector Cooper ma non penso che sia a livello di questi tre Hector Cooper e vado a giocare dopo tanti anni di Juve vado ero spremuto effettivamente ero spremuto decidiamo insieme alla Juve di terminare e mi lascia partire vado a Mallorca una città un'isola fantastica di era la mia seconda casa e viene il presidente del Mallorca guarda starei bene recupererei anche fisicamente non sapevo chi fosse l'allenatore chi era l'allenatore Hector Cooper un mano e devo essere sincero non è stato facile con Cooper perché comunque io andavo volevo andare a giocare al Tic Tac in Spagna a rilassarmi noi ci allenavamo alle 5 del pomeriggio facevamo la preparazione a Mallorca e Spiaggia era tutto bellissimo però lui voleva voleva la mentalità ormai c'era la mentalità argentina e italiana del lavoro del lavoro tattico il lavoro tattico però non era non era perché si verticalizzava molto con l'Anci e davanti avevamo un giapponese che era alto mezzo metro cerchiamo di dirlo giochiamo un po' di più per arrivare però lui voleva le ripartenze però devo essere sincero al di là del che possiamo essere non andati d'accordo a livello tattico tecnico in squadra lo siamo rivisti poi diverse volte perché lui viveva a Mallorca tanto tempo all'anno quando non allena mi sono reso conto che era una bravissima persona un'ombre verticale ma onesto dai valori sanissimi glielo ho riconosciuti perché al di là del fatto che il giocatore di solito va contro l'allenatore quando non gioca io giocavo facevo anche gol sono stato anche capo guarnanile del mese di novembre con la difenza perché andavo anche bene però devo riconoscere di essere una persona serissima e non beverti calma e che gli auguro il bene come persona perché se lo merita anche perché a casa comanda sua moglie e per quello lui si esauriva con noi lui ce la faceva pagare a noi grazie Marco grazie mille grazie a te Andrea grazie a voi grazie a te